Il partito di Giorgia Meloni stavolta non premia il territorio aretino. Nessun candidato appartenente a questo territorio. Al tavolo della conferenza stampa il consigliere regionale Gabriele Veneri e l'ex presidente di Estra Francesco Macri. Il suo nome era tra i più probabili nel collegio uninominale alla Camera dove invece ha prevalso la senatrice uscente della Lega, Tiziana Nisini. Perché sono dinamiche nazionali, sono logiche interne, esterne, quindi sono divisioni di territoriali che si operano a livello nazionale. Era più ambito questo collegio che doveva toccare a Fratelli d'Italia, qualcuno è stato più forte di noi nel pretenderlo, nel richiederlo. Quindi è andata così, non è un dramma. Come dico io, il seggio non fa l'onorevole. Sicuramente c'è l'amarezza, c'è il dispiacere, ma Tiziana farà benissimo per questo territorio. Il lavoro, il sostegno alla famiglia, ma anche il caro energia, questi i temi più importanti della campagna elettorale. Non c'è una politica trasparente delle big player. Eni e Enel stanno facendo utili pazzeschi. Si parla di 7 miliardi e 2 rispetto ai 2 miliardi dell'anno precedente. Il prezzo del gas non può più essere fissato alla borsa olandese. Deve intervenire lo Stato e dare un'indicazione precisa. Le speculazioni non sono più accettabili. Io da ex presidente di Estra so per certo che la maggior parte delle società energetiche stanno facendo affari milionari. E questa è una cosa vergognosa che si compie sulla pelle di tanti cittadini e delle imprese. Più assumi, meno paghi è tra gli slogan nazionali, ma che poi si riversano su tutto il territorio nazionale, anche qui in Toscana. Una grande attenzione alla famiglia. La stessa Giorgia Meloni ha detto basta con questa giungla dei bonus, ne facciamo uno un po' più robusto per le famiglie. Assolutamente fondamentale. La famiglia è il nucleo su cui si fonda tutta la società. Dobbiamo aiutare le famiglie e dobbiamo finalmente non dover costringere le donne a dover scegliere fra famiglia o lavoro. L'altro grande tema è quello della Bolkestein. E quindi noi abbiamo anche un grande turismo legato alle nostre coste, alle coste di tutta la Toscana, alle coste di tutta anche la provincia di Grosseto. E quindi dobbiamo batterci per chi in questi anni ha creato questo turismo, ha fatto un grande indotto per il mare e per i cittadini, non solo di Grosseto ma anche, se pensi ad Arezzo, a quanti sono i turisti di Arezzo o persone che hanno case lungo la costa. E quindi il grande turismo è stato incrementato grazie al lavoro fatto da queste persone che da anni seguono gli stabilimenti balneari. Però per tutto questo serve anche la strada. E noi ad oggi, dopo anni e anni e governi si sono succeduti, non abbiamo ancora la Due Marie. Cioè noi ancora siamo con delle strade, per arrivare da Arezzo a Grosseto ci mettiamo troppo. Pensiamo a quanti sono i chilometri, pensiamo alle ore che passiamo in macchina. Quindi i grandi temi sono quelli che riguardano i territori, non i massimi sistemi ma i territori.